Lo sportello del cittadino è una rubrica che ha intenzione nelle sue finalità appunto di coinvolgere il cittadino ma anche con situazioni pratiche. Sarà capitato a tanti di noi e di voi, a me capiterà fra qualche mese, di dover lasciare una casa magari di genitori anziani, di parenti o di zii passati tanti anni e quindi si decide di cambiare vita e allora rimangono, restano tanti mobili dei quali la cui fine non si sa quale potrà essere, magari non si riescono a vendere, diventa un problema proprio liberarsi di essi. Però quei mobili che ad alcuni non servono più, quegli stessi mobili potrebbero essere preziosi per altri e c'è una iniziativa da parte di Chima Ambiente Amio con la creazione di un'app riciclario, l'app per la raccolta differenziata che dà una nuova vita a questi mobili che viceversa sarebbero destinati alla rottamazione. Ne parliamo con l'avvocato Giampiero Mancarelli che è il presidente del CDA appunto di Chima Ambiente Amio, un'app che da un lato è ispirata diciamo a una finalità sociale certamente, dall'altro lato però evita che questi mobili possano essere magari così abbandonati e creare una situazione di degrado, certamente contrastante con gli sforzi che si stanno facendo per la differenziata. Assolutamente sì, noi ci stiamo muovendo su due fasi, uno che è quella della massima repressione e quindi diciamo così siamo inflessibili sulle sanzioni, stiamo circolando anche molto con i nostri ispettori ambientali ma anche con i vigili e dall'altro quello della massima collaborazione e apertura da parte dell'azienda e in questo diciamo che l'app riciclario ci aiuta quindi a far sì che ci sia la possibilità nelle prossime settimane di avere la cosiddetta bacheca del riciclo. Cioè chi ha bisogno di disfarsi di un immobile, di un mobile scusate, invece di lasciarlo per strada oppure chiamare il numero verde può inserire la foto all'interno della app e chiunque ne ha bisogno può richiederlo e quindi andarlo a prendere gratuitamente. Insieme a questo noi nelle prossime settimane attiveremo il cosiddetto concorso appunti che vuol dire che quando si porteranno presso i CCR, le isole ecologiche, quindi presso i centri comunali di raccolta, gli immobili, gli ingombranti, penso per esempio il frigo piuttosto che il materasso avranno dei punti e alla fine raggiungendo circa 35 punti si potrà avere un buono spesa di 10 euro. Quindi noi in questo modo cerchiamo di ridurre, diciamo così, l'inciviltà di lasciare gli ingombranti in ogni dove della nostra... E diciamo c'è l'incentivo per il cittadino. Assolutamente sì, riteniamo che sia importante anche perché in questo modo chiediamo la massima collaborazione anche di coloro i quali i cosiddetti svuotacantine e quindi cerchiamo in questo modo di non contrapporci ma di agevolare e aiutare a che anche loro possano collaborare a che si possa avere maggiore igiene e decoro in città di Taranto.